Cosa regala l'Epic Games a tutti i giocatori di Fortnite? Guarda il video fino alla fine per scoprirlo. Ma prima mi raccomando, supporta un creatore SCSYT nello shop. Ovviamente mettete subito un bel like al video, ma andiamo a vedere subito cosa regala l'Epic Games. Il regalo di oggi è questo nuovissimo piccone gratuito per tutti. Quelli che giocheranno semplicemente 30 minuti in questa mappa creativa chiamata Chaos Creativo. Attualmente che sto registrando il video ancora non è disponibile, infatti cliccando da un'occhiata non c'è. Ma quando voi accederete a Fortnite oggi sarà disponibile e potrete avere gratuitamente tutti quanti questo piccone giocando 30 minuti in quella mappa. Non importerà registrarsi ragazzi, basterà semplicemente giocare 30 minuti. Se volete questo piccone gratis mi raccomando nei commenti spammate i più commenti possibile con la parola like ragazzi. Mi raccomando scrivete tantissimi commenti con la parola like. Soprattutto mi raccomando cliccate il video che vedete a schermo adesso per rimanere aggiornati sulle news e sulle ricompense gratuite di Fortnite.